Un ringraziamento particolare al servizio fotografico, al professor Di Bacchia. Allora, classi seconde, società ionica distributori, siamo nella classe seconda di, il premio lo attribuisce il docente, la professoressa Vendide, la studentessa di Lomenica e Imanuana. Grazie. Dotata di buone capacità espressive, logiche e intuitive, riesce ad operare con originalità e di modo personale e trasferisce e utilizza le sue conoscenze nei vari ambiti disciplinari. Interviene spontaneamente in ogni attività ed esprime in modo diretto i suoi pensieri che appaiono maturi e responsabili. e spesso contribuiscono ad arricchire la conversazione, gli spunti, riflessioni e approfondimenti. È aperta nei confronti di tutti ed è sempre disponibile ad aiutare le difficoltà. La sua preparazione e il suo livello di maturità sono più che soddisfacenti. Grazie. Grazie. Grazie.